In un tram pieno di gente, entra un signore ubriaco Quei dietro in tutti i cornuti Del mese in tutti i imbecilli Davanti in tutti i richioni L'autista dà un'inchiodata, tira il freno a mano Sa s'amveschiondo due metri fa Cosa ha detto lei? Sa che l'inchiodete gli è mischieti tutti Grazie